Musica Domenica 23 marzo, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Sono scaduti ieri sera alle 20 i termini per presentare le candidature alle primarie del centro-sinistra per la carica a sindaco del comune di Campobasso. I candidati sono otto, sentiamo Anna Maria Di Matteo. Primaria del centro-sinistra con sorpresa finale a Campobasso. A pochi minuti dalla scadenza del termine per la presentazione dei nomi dei candidati, poco prima dell'evento si sono presentati per ufficializzare le proprie candidature l'avvocato Mariano Principe e Michele Durante. Il primo rappresenterebbe la sintesi tra il gradimento del senatore Roberto Ruta e quello del presidente della regione Paolo Frattura. Una candidatura alla sua che a questo punto rimescola tutte le carte in tavola, soprattutto in casa dei democratici. E poi c'è l'altra candidatura, arrivata pure questa a sorpresa, quella dell'attuale consigliere comunale di Costruire Democrazia, Michele Durante, sceso in campo come indipendente. A questo punto il quadro è chiaro, sono ben otto i candidati del centro-sinistra che scenderanno in campo per la carica di sindaco di Campobasso Antonio Battista, Augusto Massa, Pino Libertucci, Bibiana Chierchia, Piero Colucci, Giovanni Muccio, Mariano Principe e Michele Durante. La macchina delle primarie ora può partire in attesa delle consultazioni di coalizione previste per domenica 6 aprile. Intanto nel centro-destra, nel corso di una riunione che si è svolta a Disernia, sarebbe stato raggiunto l'accordo sul nome di Rosario De Matteis, che dunque rappresenterebbe la sintesi delle indicazioni dei partiti della coalizione. Tutti i comuni del Molise sono a rischio idrogeologico. L'allarme è stato lanciato dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche che ha proposto alle regioni di adottare un nuovo piano di interventi. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Frane e smottamenti in ogni angolo della regione, tanto che il 100% dei comuni del Molise è a rischio idrogeologico, lo dicono i dati dell'Associazione Nazionale Bonifiche e del Consiglio Nazionale dei Geologi, che accomunano la nostra regione a Calabria, Basilicata, Umbria e Valle d'Aosta. Dati che confermano un problema legato non solo ai centri abitati, ma anche e soprattutto alla viabilità, con le frane che continuano a minacciare e a devastare i collegamenti. Secondo Giorgio Manes, presidente dell'Unione Regionale delle Bonifiche, un ruolo importante possono averlo proprio i consorsi del settore, lo ha detto intervenendo ai lavori della Conferenza Nazionale organizzata a Venezia. Obiettivo? Intervenire per la riduzione del rischio idrogeologico, eliminando i vincoli del patto di stabilità, accelerando i tempi per l'applicazione della politica agricola comune con i piani di sviluppo rurale e incentivando l'utilizzo plurimo delle acque irrigue come l'idroelettrico. Da Venezia è partito anche un invito alle amministrazioni territoriali di fare proprio il piano per la riduzione del rischio idrogeologico presentato dall'Unione Bonifiche. Manes ha evidenziato come sia stato importante per il Molise il piano irriguo nazionale, grazie al quale in passato hanno potuto accedere alle risorse tutti e tre i consorsi di bonifica. Altro problema, segnalato dagli agricoltori, quello della pulizia dei canali, ancora necessaria in varie zone del Basso Molise per prevenire in futuro altri allagamenti. Ed ora andiamo al santuario di Castel Petroso dove è stato celebrato il 126esimo anniversario dell'apparizione della Madonna della Dolorata. Il servizio di Sergio Di Vincenzo. C'è chi arriva a piedi, chi in auto o con i pullman organizzati. Ma il mezzo di trasporto è l'ultimo dei problemi. Per i fedeli l'importante è essere presenti all'appuntamento con le celebrazioni organizzate nel giorno in cui si ricorda la prima apparizione della Madonna della Dolorata alle pastorelle di Castel Petroso, Bibiana e Serafina avvenuta proprio in questa zona dove oggi sorge la Basilica. Anche per il 126esimo anniversario i fedeli sono arrivati non solo dal Molise ma anche da altre regioni italiane a testimonianza dell'importanza assunta negli anni da questo santuario. A tutti loro durante l'Omelia l'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano Monsignor Giancarlo Bregantini ha voluto rivolgere un messaggio di grande speranza soprattutto in un periodo difficile come questo. Abbiamo bisogno, come dicevo, di quest'acqua viva che qui è sgorgata e che ha sanato questo ragazzo 125 anni fa questo è l'anno dopo è avvenuto segno di come Dio sia capace di rasserenare anche la nostra crisi nell'arsura della disoccupazione lei ci pone una risposta che è quest'acqua viva che è la luce che è il coraggio che è la speranza in fondo santuario è sempre più attuale sempre più abbiamo bisogno di questa presenza materna e rassicurante. Quindi quest'anno più che mai è un grande messaggio di speranza. Sì, sempre di più anche del resto se si guarda come hanno fatto a costruire un santuario così bello in tempi di calamità e di povertà noi dovremmo dire anche oggi perché dovremmo passare a una situazione di scoraggiamento o di mancanza di futuro. Quest'anno ad accogliere i pellegrini c'è anche un'altra novità è stata infatti inaugurata una mostra che ricorda la visita di sua santità Giovanni Paolo II al santuario della Dolorata di Castelpetroso. La celebrazione, il ricordo di Giovanni Paolo II qui in terra di Molise certamente non poteva essere tralasciato sia in occasione della sua canonizzazione il 27 aprile sarà ufficialmente iscritto nel Libro dei Santi sia anche della ricorrenza che vivremo il 19 marzo dell'anno prossimo cioè i vent'anni di Giovanni Paolo II qui a Castelpetroso. per una piccola terra come la nostra per noi che siamo molisani e certamente la visita del Papa forse un po' dappertutto ma per noi particolarmente non può essere qualcosa di dimenticato o di dimenticabile ma deve essere sempre tenuto vivo perché abbiamo avuto la grazia di avere come abbiamo intitolato la mostra un santo ai piedi della Dolorata. Ed è tutto per l'informazione passiamo ad esaminare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Con Marco Presutti in regia diamo uno sguardo al giornale del Molise.it Frattura è la sua maggioranza sempre più in crisi verifica politica e primaria e resa dei conti nel PD. L'articolo di Giovanni Minicozzi il rebus della politica verifica politica nella maggioranza di centrosinistra che da appena un anno governa la regione si tinge sempre più di giallo e di ridicolo. A tutti gli effetti la verifica è diventata ormai una vera e propria crisi politica che si trascina da tempo e che paralizza le istituzioni e complica perfino la scelta dei candidati targati PD al vertice dei comuni di Campobasso e Termoli. Alle primarie di Termoli sfida 6 per la candidatura nel centrosinistra mentre invece per quelle di Campobasso la sfida sarà ad 8. ottavo congresso della CGL Molise del fattore riconfermato segretario generale poi il sistema idrico molisano si lavora per ammodernare Isernia finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese poi viadotto trasformato in discarica maxi sequestro di Eternit a Cerro al Volturno sbarchi di extracomunitari Isernia disponibile ad accogliere i migranti giornate FAI di primavera tante le iniziative previste in Molise poi Brasiello contro il governatore Frattura la regione ci trascura le altre notizie le potrete leggere quindi sul giornale del Molise punto iti gli altri quotidiani regionali primo piano Molise che apre con le primarie del centro-sinistra a Campobasso in otto ai nastri di partenza in corsa per il centro-sinistra anche l'avvocato Mariano Principe sostenuto dal governatore per la candidatura sindaco scendono in pista Massa Battista Chierchia Colucci Muccio Durante e Libertucci a Termoli invece sfida 6 Scurti Junior e Sbrocca le sorprese oltre ai due in gara ci sono pure Coscia D'Ambrosio Russo e Giuliano l'anniversario delle apparizioni il sogno di Monsignor Bregantini Papa Francesco a Castelpetroso a Monte Ruduni inottata l'arrivo di 40 profughi provenienti dall'Ampedusa i rifugiati saranno smistati nei centri di accoglienza CGL Molise Sandro Del Fattore eletto segretario per altri 4 anni vediamo lo sport serie di Termoli spareggio con il Matelica Lisernia e l'ultima spiaggia poi da una sesto Botta e risposta Vazzo Girardi esce dal tunnel calcio a 5 pari interni per l'Esernia e Venafro C5 Palla Canestro Sardella sfida Sansevero Mascio ritrova Petrazzuoli per l'Abruzzo per il Marina c'è la capolista Lavastese di scena a Pineto il quotidiano del Molise stessa apertura primaria nel centro-sinistra all'ultimo minuto spuntano candidati a sorpresa domenica 6 aprile si vota per scegliere chi si batterà per la poltrona di sindaco sia nel capologo di regione che nella cittadina adriatica i giochi sono aperti ora è caccia alla preferenza a Campobasso corrono in otto Massa Battista Principe Chierchia Muccio Libertucci Durante e Colucci mentre a Termoli la partita è a 6 Sbrocca Scurti Russo Giuliano Coscia e D'Ambrosio contributo all'accoglienza profughi circa 40 attesi in nottata la prefettura di Sernia ha dato l'ok verranno alloggiati a Monte Roduni sindacati del fattore confermato segretario regionale della CGL intanto a Venafro ha aggredito Vaccone presidente del comitato pro ospedale lo sport ecco la nuova casa del calcio Molisano Figgi CLND serie di Termoli Big Match con il Matelica Lisernia c'è la Miternina e poi serie D Lagnone cerca la continuità Boiano a Giulianova eccellenza Lupi Scoglio Gamba Tessa la GC Dauna vince il derby sesto ok promozione Castelmauro all'inglese sulle acli Treppini serve il poker la gazzetta della Molise le vacanze a scrocco frattura come Renzi nei monopoli delle case pagate dagli imprenditori poi primarie del centro-sinistra corsa ad otto c'è anche l'avvocato di Frattura e Patriciello l'Oscar del giorno ai sostenitori della Gazzetta del Molise il tapiro del giorno a Michele Petraroia passiamo ora al sannio quotidiano inquinamento operazione dei carabinieri l'arma di Castel San Vincenzo appone i sigili ad un'intera area di Maniale interviene anche l'ARPAC ha rinvenuto un ingente quantitativo di lastre di Ethernet esposta gli agenti atmosferici vicino al viadotto Rio questo al Cerro al Volturno lasciamo la stampa locale vediamo la stampa nazionale il Corriere della Sera basta taglia la sicurezza la relazione riservata dei vertici delle forze dell'ordine l'avviso a Palazzo Chigi rischioso ridurre ancora gli organici no alla fusione dei corpi in Libia rapito un tecnico italiano ha bisogno di cure forse un sequestro per estorsione l'impegno di Renzi per Expo 2015 verrò due giorni a Milano ce la faremo le mosse del governo dopo l'allarme del commissario Sala e poi intervista a Maroni Pisa Pia sbaglia non realizza le opere che toccano a lui passiamo alla Repubblica venerdì la riforma del Senato nuova sfida del Premier Padoan con in ordine piano privatizzazioni pronto il testo definitivo per ottenere il primo sì entro maggio polemica sugli stipendi dei manager Lupi se Moretti vuole andarsene faccia pure Berlusconi striglia Barbara e Marina non si può mandare tutto in frantumi il Cavaliere i miei figli non si candida da un vertice di famiglia ad Arcole appello di Pisa Pia sulle sposi rischia in campo il governo intervista al sindaco di Milano io vittima violentata da ragazza tra i saggi anti pedofilia del Papa Mary Collins irlandese nella commissione per la tutela dei minori e poi muore un bimbo di tre anni appena dimesso dall'ospedale si chiamava Leonardo Sonno tre anni viveva pescia romana la stampa servono conti in ordine Padoan crescere ma il bilancio non si tocca privatizzazioni nuovo piano Renzi e il progetto di un PD modello americano Berlusconi blocca Barbara i miei figli non saranno candidati per le europee la marcia dei centomila donciotti in Italia stragi senza verità il 21 marzo giorno della lotta a Latina la manifestazione contro le mafie io nella base in Crimea assediata dai russi tra i soldati ucraini abbandonati dal governo in Mosca minaccia Kiev niente sconti sul gas alcuni civili fuggono dalla base aerea di Belbec vicino a Sebastopoli dopo l'irruzione delle forze russe dalla stampa al giornale Renzi si impantana i guai del premier dopo Confindustria l'attacco dei commercianti per ora solo annunci vogliamo tagli veri alla spesa e Padoan lo gela i vincoli dell'Unione Europea non si toccano Berlusconi sul voto i miei figli non si candidano il giorno dopo il referendum lo schiaffo del Veneto divide l'Italia basta tasse a Roma Maroni per l'Expo pronto a pagare il governatore se ho sbagliato sugli arrestati mi prendero le mie responsabilità intanto Mentana vuole il posto di Santoro gli ascolti di servizio pubblico crollano Cairo tentato dal cambio della guardia il tempo manager milionari finanzieri alla verde ricchi e poveri ecco i paperoni delle aziende pubbliche nel mirino di Renzi intanto Cottarelli sbaglia i conti sulla guardia di finanza e rischia di favorire gli evasori fiscali la Roma vince e tiene a distanza Higuain Company con il Chievo decidono i gol di Gervinio e Destro non candido i miei figli alle elezioni europee questa è la dichiarazione di Berlusconi intanto parla Nick Cosentino vi racconto la verità su Silvio Forza Italia e la Pasquale e il ministro torna sui fucilieri Marò la satira sinistra di Luca e Paolo in tv il fatto quotidiano Expo Mafia il dossier del prefetto di Milano le mani dei clan sui lavori dall'area della fiera alla tangenziale esterna un allarme che si aggiunge all'inchiesta della procura che ha decapitato infrastrutture lombarde per i 240 milioni di appalti gestiti dalla solita cerchia del Pirellone variante di Valico nei tunnel che si sbriciolano a rischio il pilone della A1 e poi sulle spine povero Renzi quanti nemici povero Caimano nemmeno i figli il premier sotto assedio tra Confindus e CGL e Berlusconi toglie Marine e Compani dalla lista vediamo ora l'apertura della Gazzetta della Mezzogiorno che apre con questa apertura rispuntano le privatizzazioni Paduan accelera ma la Camusso avverte malissimo sul pacchetto lavoro Berlusconi Pungerenzi e poi esclude candidature dei figli all'europea il ministro dell'economia crescita sì ma con i conti a posto non sarà solo il signor no ma la stabilità è indispensabile vediamo libero le case del governo Renzi mappa dei patrimoni gli 11 uomini nuovi del premier sono una immobiliare con proprietà per 16 milioni di euro i paperoni sono rughetti con villa hollywoodiana l'ereditiera Madia boschi nulla tenente l'uomo che pagava l'affitto al premier si libera della società che prende appalti dal comune di Firenze strategia per gli europei i video di Silvio per far campagna dagli arresti Berlusconi registra messaggi per istruire i candidati e stoppa i figli passiamo all'unità Forza Italia finisce in ris Berlusconi stoppa i suoi figli dopo la rivolta del partito nessuno di loro sarà candidato all'europea dai sondaggi risultato inferiore al 20% e spunta la tentazione di un volta faccia sull'italicum 100.000 in piazza per la legalità a Latina la marcia di libera Don Ciotti tutti usano belle frasi ma in Italia nessuna verità sulle stragi da Notar Bartolo ai bimbi uccisi letti i nomi di tutte le vittime della mafia dall'unità al manifesto a futura memoria in 100.000 invadono Latina nella giornata della memoria indetta da libera contro le mafie al corteo molti giovani in prima fila i familiari delle vittime dal palco Don Ciotti attacca le collusioni politiche e sferza i finti cattolici la piazza chiede verità sulle stragi e la riforma della legge su corruzione e voto di scambio Padoan intanto annuncia nuove privatizzazioni uscire dal tunnel dell'alta velocità si può ma il candidato sindaco di Renzi tira ditto questo a Firenze l'avvenire Renzi niente scontri ma basta privilegi Padoan adesso crescita con i conti a posto il premier Confindustria destini legati dai manager sacrifici giovedì vede Obama patto su crescita e lavoro il tesoro privatizzazioni 100.000 contro le mafie a Latina e poi gli spari e la resa dell'ultima base Ucraina Crimea occupata le notizie economiche il sole 24 ore Padoan nuovo piano di privatizzazioni misure per la crescita senza mettere a rischio e conti il ministro dell'economia dopo le poste anche ferrovie e fincantieri aperte ai capitali privati pronti sui debiti della pubblica amministrazione poi il fondo mini bond intervista Giovanni Giorno Tempini tasse dei comuni nel caos importi al buio fino ad agosto verso il nuovo slittamento al 31 luglio per i bilanci locali il messaggero Renzi riforme contro la palude la strana coppia squinzi camusso contro i cambiamenti vedremo la gente con chi sta scardinerò la burocrazia i dirigenti saranno licenziabili premio ai dipendenti che lavorano di più e poi privatizzazioni nuovo piano l'accelerazione del tesoro paduan misure per la crescita ma solo con i conti a posto e poi la notizia del bambino dimesso dall'ospedale e muore a tre anni questo in provincia di Viterbo e infine vediamo la gazzetta sportiva Milan tutti in campo ma Balo è in dubbio e Sedorf rischia grosso Sedorf se perde male può saltare ho chiesto io aiuto devo fare esperienza e poi vediamo le altre notizie la capolista Osvaldo con Tevez la Juve dei record cerca altri gol destro c'è la Roma va messaggio a Prandelli poi anticipo 2 immobile spietato tripletta cerci sostituito ma non ci sta reportage da Giacarta così si tifa Inter a casa Tohir Mazzarri cerca la quarta gara senza subire gol come Murigno in Indonesia una passione sfrenata un club con 15.000 iscritti Milano Sanremo la primavera Sagan favorito Nibali all'attacco e con la gazzetta sportiva si conclude il nostro appuntamento con la rassegna stampa l'informazione di Telemolise torna alle 14 grazie per averci seguito buona giornata e buona domenica Grazie per averci seguito